L'attore comico Vincenzo Salemme e l'arbitro internazionale di calcio Fabio Marisca hanno preso parte alla giornata dello studente a pochissime ore dall'atteso giorno in cui si celebreranno gli 800 anni esatti dalla fondazione dell'Ateneo Federico II di Napoli. La giornata dello studente si concentra in modo particolare sulle storie dei ragazzi fuori dalle aule, esplorando le loro passioni, sogni e obiettivi. Vincenzo Salemme dialoga con gli studenti, in particolare con i partecipanti ai laboratori teatrali, alla Radio F2 Radio Lab e ai corsi di cinema e teatro. Salemme scambia due battute con la stampa e a chi gli chiede cosa può insegnare il teatro lui risponde così Il teatro insegna sempre alla vita ma non deve insegnare nulla, il teatro va vissuto come la vita, mi raccomando viviamo il presente, il teatro è l'arte di vivere il presente. Per uno studente praticare sport aiuta ad avere il giusto equilibrio, questo invece è il commento di Fabio Maresca. Continuare a praticare sport a qualunque livello, direttantistico, c'è anche oggi la figura dell'atleta federiciano che è riferita a ragazzi che praticano sport a livello agonistico sia fondamentale per avere un equilibrio della mente e del corpo negli anni più importanti della propria vita. A ricevere un premio in sala gli atleti dell'università impegnati in diverse discipline come la pallavolo. Un'occasione per fare squadra e anche come me in particolare che non faccio pallavolo nella vita però ho comunque trovato un gruppo, una squadra e quindi oltre un po' di sport ho imparato anche a fare lavoro di gruppo e di squadra. Questa sera protagonista di un concerto in piazza del Gesù Nuovo la cantante Malika Yan, ospite dell'università Federico II e domani nel giorno dei 800 anni della Federico II al Teatro San Carlo una serata speciale che vedrà la partecipazione di Alberto Angela e decine di ospiti nazionali e internazionali.